E ci ha raggiunto in questo momento il responsabile della ricerca e dello sviluppo di Archimedia Energia, Andrea Gallarate, insomma un ruolo che abbiamo capito essere veramente fondamentale, cioè tutto quello che gira qua e che abbiamo visto noi con i nostri occhi poi si basa su delle piccole schede, su quello che noi spesso troviamo anche nei telefonini, insomma questi circuiti stampati che sembrano delle cose cinesi e giapponesi, in realtà invece dentro lì c'è tutto un gran lavoro che è quello che voi svolgete al piano di sopra, che ogni singola componente, ogni singolo cioccolatino, ogni cosa che noi vediamo su questi circuiti effettivamente può cambiare la vita. Assolutamente sì, è molto importante utilizzare bene questa tipologia di batterie, nel senso che le batterie a litio sono dei gran belli accumulatori perché abbiamo visto che in poco spazio abbiamo tantissima energia ma le celle vanno assolutamente gestite, per fare questo serve dell'elettronica fondamentalmente, elettronica anche abbastanza evoluta, nel senso che tutto quello che viene visto deve essere visto in tempo reale, non possiamo permetterci di osservare alcune grandezze all'interno della batteria con tempistiche molto molto larghe. Il nostro lavoro è quello di ingegnerizzare la batteria perché partendo dalle celle, dalle materie prima dobbiamo ingegnerizzarla, cioè avere un prodotto innanzitutto producibile, industriale, quindi a livello industriale dobbiamo poterlo produrre e poi abbiamo tutta la parte di gestione, quindi questa è una parte molto importante, la parte di gestione e di comunicazione verso l'esterno, questa non è una semplice batteria come la gente è abituata a avere in macchina, esattamente al piombo, cioè non c'è un polo positivo e un polo negativo e basta, no, qua abbiamo tutto in elettronica, per cui la batteria va accesa ad esempio, questa è una cosa strana per una batteria, la batteria va accesa. Di solito la batteria accende qualcosa. Esatto, in verità no, invece la batteria va accesa, perché va accesa? Perché è all'interno dell'elettronica, l'elettronica ha dei minimi consumi, per cui avere la batteria costantemente accesa vorrebbe dire un minimo di autoscarica, queste tipologie di celle hanno una bassissima autoscarica, per cui dobbiamo conservare questa bassissima autoscarica, per cui la batteria è spenta normalmente quando non la si utilizza, prima di utilizzarla viene accesa. E viene un check up. Assolutamente, parte per cui tutta la parte elettronica ha a fare un check up di tutte le celle, delle temperature all'interno delle celle e viene praticamente attivata anche una comunicazione verso l'esterno, per cui noi dobbiamo comunicare verso l'esterno che tutto è a posto e tutto funziona. Quali sono le grandezze importanti da tenere sott'occhio, che l'elettronica permette di tenere sott'occhio? Sono le temperature all'interno della batteria, la batteria va monitorata, per cui le batterie devono avere una temperatura che sta all'interno di un range, che normalmente va dai meno 20 gradi ai più 60 gradi di utilizzo. Se noi utilizziamo la batteria in un range di temperatura corretto, questa batteria funziona meglio, dura di più e sicuramente ci dà performance che sono nettamente superiori, per cui è importante controllare il range di temperatura a cui queste celle lavorano. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è invece monitorare le tensioni. Ognuna di queste celle ha una determinata tensione, non può scendere al di sotto di un certo limite, non può essere caricata al di sopra di un certo limite. Anche questi sono limiti importanti. Se vogliamo che le celle abbiano una durata stimata, elevata, noi dobbiamo assolutamente cercare di mantenere queste celle in una zona di lavoro che è quella ottimale. Per cui tutte le elettroniche che abbiamo a bordo serve sostanzialmente a fare questo. Poi c'è del contorno, nel senso che noi abbiamo aggiunto ulteriori cose, che sono quelli ad esempio di utilizzare un microSD all'interno in cui andiamo a logare tutte queste grandezze. Per cui noi ogni secondo andiamo a memorizzare tutte le temperature, tutte le tensioni delle singole celle, le correnti e lo stato in cui si trova la batteria. Nel caso in cui servisse un intervento in remoto. Se voi dovete collegare avete tutto un database. Assolutamente sì. Noi siamo in grado di sapere cosa ha fatto la batteria in qualunque istante della propria vita. È come se noi avessimo un check up continuo della nostra situazione. Quindi un dottore saprebbe che un'ora fa avevi questa situazione, 58 minuti fa ne avevi un'altra. Siamo anche in grado di capire quindi se qualcuno l'ha utilizzata male questa batteria. Quindi questo diciamo che permette anzitutto di risolvere il problema perché comunque voi una volta che leggete il logout e con tutte queste informazioni intervenite. Ricordiamo spesso è un intervento che può essere fatto a livello di software. Spesso è un intervento da remoto. Quindi riusciamo a verificare qual è lo stato della batteria, qual è il guasto che ha la batteria. E questo è importante. Girando oggi abbiamo visto delle soluzioni che ci dicevi appunto che sono quasi dei prototipi. In quel caso per esempio vediamo un blocco dove ci dicevi che sono saldate. Stiamo migliorando la nostra tecnologia. Nel senso che abbiamo già un'ottima tecnologia. Sicuramente la tecnologia non si ferma per cui noi le stiamo cercando di migliorare. Migliorare vuol dire avere più autonomia. Migliorare vuol dire avere sicuramente più autonomia. Questo lo si ottiene mantenendo i limiti di temperatura corretti, mantenendo le tensioni corrette e utilizzando la corrente corretta. Perché spieghiamo, non è che le prestazioni della moto elettrica o dell'Apecar o di una barca elettrica sono legate alla batteria in termini di velocità piuttosto che lì è il motore che dà questo. La batteria dà l'autonomia. La batteria dà l'autonomia ma dà anche una corrente di spunto. Nel senso che il litio che plus ha rispetto al piombo ha il fatto di poter dare delle correnti di spunto molto più elevate. Per cui se un motore mi richiede molti ampere per poter partire, la batteria di litio può fornirli. La batteria al piombo un po' meno. Per cui sicuramente esiste anche una classe di... Un famoso spunto che si ha anche nell'automobile quando si gira un motore all'avviamento. Esattamente sì, ma infatti le batterie a litio vanno bene anche per quello. Perché supportano delle correnti molto elevate sostanzialmente. Poi ci sono diverse categorie di batterie a litio. Le batterie a litio adeguate per la trazione elettrica, sia che queste sia terrestre o marina, sono le batterie di tipo lipo, ovvero polimiri di litio. Queste batterie hanno una capacità molto elevata e hanno la possibilità di avere correnti di scarica molto elevate. Poi abbiamo altre tipologie di batterie a litio, che sono il litio ferro polimero, le classiche lipo, che abbiamo anche visto là. L'abbiamo anche visto, esatto. Hanno una densità energetica un filo inferiore rispetto alle batterie di tipo lipo, costano anche meno, pesano un pochino di più, ingombrano un pochino di più, ma non hanno quelle correnti di spunto che possono facilitare la trazione elettrica. Perché queste possono essere utilizzate, ad esempio, come batterie di storage. Per cui per fare un banco di servizio su un'imbarcazione potrebbero essere utilizzate. Piuttosto che un banco di servizio per qualunque altro oggetto. Perché è appunto uno dei problemi delle batterie a litio, che vanno comunque poi, hanno una durata nel tempo e quindi logicamente, oltre all'autonomia che ti do, perché ti dico in questo momento ho accumulato energia, te ne posso dare per un'ora, due ore, tre ore, io poi però ho bisogno di essere ricaricato, quindi devo accumulare energia. E questo, carica, scarica, carica, scarica, è legato proprio a... Sono ciclivite, si chiamano ciclivite. Ciclivite legati al tipo di cella proprio. Al tipo di chimica sostanzialmente. Perché la cella che cos'è? La cella sostanzialmente è chimica, per cui all'interno io ho dei polimeri, quindi delle reazioni chimiche, delle redox fondamentalmente. In base alla composizione chimica ho diverse tipologie di celle, più o meno performanti. E questo ovviamente è quel discorso che ci diceva prima il dottor Roberto Villa, che bisogna anche ricercare, da parte vostra c'è una ricerca quotidiana, su quello che sono le batterie prima a disposizione. Assolutamente. Ci sono diverse tipologie di celle litio, per cui in questo momento abbiamo più o meno tre tipologie di celle litio, per cui abbiamo le classiche ioni di litio, che sono un po' meno nobili, sono state le prime a essere scoperte, vengono utilizzate ad esempio per fare le batterie delle biciclette elettriche, le e-bike. Abbiamo le batterie litio-polimero, che sono quelle che trattiamo, fondamentalmente noi servono per la trazione elettrica, e poi ora abbiamo le batterie a litio-ferro-polimero, le classiche l'ifepo, che sono un po' meno performanti. Queste sono le tre tipologie di batterie litio che in questo momento ci sono sul mercato. Probabilmente ne nasceranno altre. Con le nanotecnologie si riescono ad ottenere un numero di cicli vita molto superiore, però attualmente i costi sono ancora molto elevati. Se abbiamo capito bene, i cicli vita sono legati alla cella. Per come è composta e al tipo di chimica che la fa. Mentre quello che è l'autonomia, quindi il range che la batteria poi mi offrirà, di dire che per un'ora o due ore ti fornisco energia, questo è legato molto alla gestione di queste celle, quindi al vostro lavoro. Dallo tipo di cella, ma anche alla gestione che si dà dell'intera batteria, e quindi della cella sostanzialmente. La batteria non è composta da una cella, è composta da più celle, dipende dalla tensione che serve, e dipende dalla capacità che serve sostanzialmente. Noi facciamo batterie che vanno da un range di 12 volt, fino a batterie di 400 volt. Qual è il vantaggio di avere una tensione molto alta? È il vantaggio di avere una corrente poi bassa. Corrente bassa vuol dire cavi più piccoli, e quindi una maggiore facilità nella realizzazione dell'impianto. Per cui sull'imbarcazione dove serve un motore spinti, a questo punto è molto meglio andare con batteria e con tensione elevata. E noi facciamo tanti complimenti a te e a tutto lo staff degli ingegneri che abbiamo già detto anche prima con l'ottor Roberto Villa, che lavorano da sempre, rappresentano veramente l'eccellenza del Made in Italy nel mondo, perché siete voi poi che fate le scoperte, quelle famose scoperte che negli anni ci hanno distinto, e che continuano a distinguerci, perché quando arrivano le novità importanti, chissà perché, dietro c'è un cervello italiano. Questo bisogna... È innegabile, no ma no. È vero, non lo so. Siamo testardi, ci proviamo sempre. Noi ne siamo felici, siamo orgogliosi. Complimenti ad Andrea e a tutto il tuo staff. Grazie, molto gentile. Grazie, ciao. Il mondo, secondo me, è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il Mondiale nel 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Allora, prima il Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico. Allora, prima il Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico.